Sarà ripristinata dal prossimo lunedì 26 aprile la fermata della circunvesuviana di Sant'Antonio, che era ormai firma da più di un mese e mezzo, e quanto comunicato al sindaco di Torre del Greco Giovanni Palumba dalla dirigenza EAP, a seguito di diverse sollecitazioni da parte del primo cittadino per la riapertura di una delle stazioni più nevralgiche dell'intera città, in considerazione del popoloso quartiere di riferimento. Così, da lunedì, battenti aperti e ripresa dell'esercizio ferroviario, per quanti lavoratori, viaggiatori e studenti si sposteranno dal territorio comunale. La riconsegna della stazione di Sant'Antonio all'utenza della comunità torrese giunge al termine di lavori di riqualificazione e recupero della struttura, così come concordato con l'amministrazione comunale, nel corso della riunione convocata dal sindaco lo scorso 9 marzo. Siamo riusciti a rispettare, le parole del primo cittadino, la tabella di marcia prefissata e concordata con i dirigenti EOV, ai quali va il mio ringraziamento per il lavoro svolto. La riapertura, il prossimo lunedì della centralissima stazione di Sant'Antonio, coincide perfettamente anche con la piena ripresa delle attività scolastiche in presenza e agevolerà lo spostamento di tanti studenti. Col buon senso di tutti siamo riusciti a restituire l'efficienza di un servizio alla nostra comunità, conclude il primo cittadino.